vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org in nomine patris et fili et spiritus sancti amen la santa comunione effettua un'unione al nostro signore una nuova unione oltre a quell'adesione per mezzo della fede oltre a quell'incorporazione per mezzo del battesimo è un'unione che il signore esprime con la frase come io vivo per il padre così colui che si ciba di me viverà per me quest'unione è insieme fisica e spirituale è un'unione fisica in quanto riceviamo veramente realmente sostanzialmente il corpo sangue anima e divinità di nostro signore gesù cristo come il concilio di trento dogmaticamente lo definisce l'unione è intima quanto quella che esiste tra il cibo e colui che se l'assimila con questa differenza però che non sarai tu che trasformerai in me come il cibo corporale sarai tu trasformato in me quest'unione tende a rendere la nostra carne più sottomessa allo spirito e più casta e depone in lei un germe di immortalità l'unione è anche spirituale unendo le nostre facoltà dell'intelligenza della volontà e del cuore a quelle del signore per questo motivo la nostra intelligenza viene indirizzata verso dio e le cose di dio verso le verità della fede e le massime evangeliche così che possiamo giudicare tutto alla luce di dio e soprattutto la vanità e la follia del mondo e delle sue massime la nostra volontà debole incostante egoista viene informata delle energie divine e così che possiamo dire con san paolo io posso tutto in colui che mi fortifica il nostro cuore viene infiammato d'amore per dio e per le anime così che possiamo dire con i discepoli di emmaus non ci ardeva forse il cuore alla sua presenza gradualmente dunque i nostri pensieri si modificano mentre ci chiediamo che farebbe il signore gesù se fosse al mio posto i desideri volano verso la gloria di dio e la nostra salvezza dei nostri fratelli il cuore aderisce sempre più intimamente a dio per cui intraprendiamo grandi cose i fratelli li amiamo cercando il loro bene spirituale piuttosto che godendo il loro affetto per noi e il nostro per il loro una parte di questo influsso divino su di noi lo possiamo attribuire allo spirito santo che vive nell'anima del signore e assieme al padre abita nella sua persona divina a lui attribuiamo le grazie attuali che riceviamo ormai in abbondanza e le ispirazioni la forza e l'amore assieme alla sua protezione e guida ma a causa dell'abitazione delle divine persone l'una nell'altra è presente nell'anima non solo lo spirito santo ma anche tutta la santissima trinità unendoci al verbo incarnato nella santa comunione dunque ci uniamo anche ad ella la santissima trinità viene a noi e di noi fa dimora cioè in tutta la sua pienezza e nelle sue relazioni reciproche divine l'abitazione della santissima trinità nell'anima ci rende come un prolungamento del verbo incarnato e ci rende amabile alla stessa trinità in questo modo la santa comunione è davvero un anticipato paradiso esse cum jesu dulcis paradisus vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org grazie